Il Magnificat e il Vangelo di Maria, la sua bella notizia che raggiunge tutte le generazioni, per dieci volte ripete, è lui che ha guardato, è lui che fa grandi cose, che ha dispiegato, che ha disperso, che ha rovesciato, che ha innalzato, che ha ricolmato, che ha rimandato, che ha soccorso, che si è ricordato, è lui per dieci volte. La pietra d'angolo della fede non è quello che io faccio per Dio, ma quello che Dio fa per me. La salvezza è che lui mi ama, non che io lo amo, e che io sia amato dipende da lui, non dipende da me. Maria vede un Dio con le mani impigliate nel folto della vita e usa i verbi al passato come se tutto fosse già accaduto. Invece, è il suo modo audace per affermare che si farà, con assoluta certezza, una terra e un cielo nuovi, che il futuro di Dio è certo quando il passato, che questo mondo porta un altro mondo nel grembo. pregare il Magnificat e affacciarsi con lei al balcone del futuro. Sei un cristiano felice o triste? Cosa potresti fare per diventare più sereno e per donare un sorriso agli altri?